Da Babelia alla Macedonia, Don Viglia è con me, il cammino che facciamo, un cammino intorno alla liturgia, intorno alla parola di Dio, torna ad essere nel tempo ordinario. La Pentecoste ha generato questa ultima domenica che dovrebbe essere appunto la domenica conclusiva della Trinità, adesso entriamo nel flusso ordinario, cioè quello che ci accompagnerà praticamente tutte le domeniche, ma di cui il mistero che abbiamo contemplato durante il tempo pasquale conclusosi con la Pentecoste e la Trinità ci deve accompagnare ogni domenica. In fondo cos'è la domenica se non il riflesso continuo di questa meditazione sulle tre divine persone? In tutta la liturgia c'è sempre un riferimento costante alla Trinità, no? Certo, è come se la domenica si espandesse dentro il nostro tempo ordinario, starei per dire che il luogo per contenerla, per custodirla, per alimentarla è proprio la preghiera che ogni domenica noi nell'eucaristia eleviamo al Signore. In questa domenica si parla di Esodo, di Dio che parla al suo popolo e di Gesù che fonda in qualche modo, cioè c'è un'esperienza di fondamento in un certo senso. Sì, e nello stesso tempo come un'indicazione di cammino, insomma riprendiamo il cammino normale e Dio ci prende per mano. Come ci ha preso per mano? Iniziando con la rivelazione nel tempo dell'Esodo perché dice esattamente questa pagina che ascolteremo, che possiamo leggere, vi ho tratti dall'Egitto, vi ho sollevato come su ali di aquile verso di me e vi ho fatto venire vicino a me, fino a me e allora voi siete la mia proprietà. La consapevolezza di questo ci mette in moto, ci fa camminare. Gesù guarda le folle e le compatisce, c'è questo termine bellissimo di Gesù che ha compassione della gente perché dice sono come sbandati. Erano stanche e sfinite come un greggio senza pastore e allora questa debilità, questa fragilità, questa stanchezza che molto spesso attanaglia la vita ha bisogno di qualcuno che la colga, che la prenda su di sé e Gesù fa proprio esattamente così, proprio perché vede un popolo sfinito, ma lo sfinito non tanto per la stanchezza fisica, non è la stanchezza del popolo dell'Esodo che sta attraversando il deserto, è la stanchezza per una non pienezza, per una non capacità di vedere dove sta andando e allora abbiamo bisogno che qualcuno ci prenda e ci porti, ci porti con sé. Ecco però Gesù fa una cosa strana, invece di dire beh io ci penso io, fonda una comunità. Esattamente. E insiste dicendo pregate il Signore che mandi operai. E proprio perché chiede una collaborazione, dice guardate che io sono venuto per voi, non potete scaricare su di me una responsabilità che è anche vostra, che è la consegna della vostra libertà per fare questo cammino che io vi indico. Per cui quando io non ci sarò più tra di voi avete bisogno di un qualcuno, di una quasi di una persona, la Chiesa è una persona, è una mistica persona, ma è persona. Quindi avete bisogno come di una comunità, come qualcosa che vi abbracci e vi conduca a capire, a comprendere, ad amare quello che io vi ho detto. E proprio perché questo la costituisce in comunità con alcuni che hanno una responsabilità particolare in ordine alla fede, che sono appunto i dodici e poi i loro successori evidentemente. Ma questi hanno proprio il compito quasi di memoria, di continuamente ripetere le cose che Gesù ha detto perché ciascuno ne possa beneficiare come se lo vedesse e lo toccasse. Grazie a tutti.